Ciao a tutti, oggi vediamo un nuovo allenamento, il nostro obiettivo sarà allenare il palleggio. Primo esercizio, andiamo a palleggiare all'altezza della nostra caviglia. Iniziamo palleggiando con la mano destra, all'altezza della caviglia per 30 secondi. Parlo un po' in avanti, dopo 30 secondi alzo il palleggio e palleggio fino all'altezza del ginocchio. 30 secondi, dopo 30 secondi alzo ancora il palleggio fino all'altezza della spalla. guardo sempre avanti, posso ripetere lo stesso con l'altra mano, quindi l'altezza della caviglia. 30 secondi, all'altezza del ginocchio, 30 secondi, all'altezza della spalla, 30 secondi. Posso fare lo stesso anche agli occhi, così. Nel secondo esercizio andiamo ad allenare il ritmo del palleggio. Facciamo due palleggi lenti che arrivano all'altezza del nostro bacino e due palleggi più veloci che arrivano all'altezza del nostro ginocchio. Quindi vado, iniziamo con la mano destra, due palleggi alti e due bassi, due alti e due bassi. 30 secondi. Taglio male, faccio lo stesso, due bassi, due più ampi, due bassi. Nel terzo esercizio abbiamo bisogno di un asciugamano, lo andiamo a mettere a terra. In questo esercizio andiamo a palleggiare e quando palleggiamo spostiamo la palla da un lato dell'asciugamano all'altra. Ovviamente la mano sulla palla quando palleggiamo rimane sempre sopra la nostra palla. Quindi facciamo un palleggio da un lato e un palleggio da un lato. E continuo per 30 secondi. Quindi diventa questo. Taglio mano e faccio 30 secondi con l'altra mano. Ovviamente posso provare a fare 30 secondi ad occhi chiusi con una mano e 30 secondi ad occhi chiusi con l'altra mano. Nel quarto esercizio iniziamo con la mano destra e facciamo un pendolo frontale per 30 secondi. Cerco di fare dei movimenti più ampi possibili. 30 secondi e cambiiamo. Adesso utilizziamo sempre l'esercizio del pendolo, però anziché farlo in modo frontale lo facciamo laterale. Quindi la palla si sposta avanti e dietro. Quindi faccio questo per 30 secondi. Dopo 30 secondi cambio mano e lo faccio con la mano sinistra. Avanti e dietro. Lo posso provare a fare 30 secondi ad occhi chiusi con la mano destra e 30 secondi ad occhi chiusi con la mano sinistra. Adesso nel nostro pendolo andiamo a combinare i due movimenti che abbiamo visto precedentemente. Quindi facciamo un pendolo frontale e un pendolo laterale. Ovviamente comincio con la mano destra per 30 secondi. Quindi uno frontale e uno laterale. E vado avanti per 30 secondi. Dopo 30 secondi cambio mano e faccio sempre uno frontale e uno laterale. Bene, ricordate che ogni esercizio lo potete provare per 30 secondi con una mano e 30 secondi con l'altra mano. Inoltre possiamo provare anche a farlo ad occhi chiusi. Ovviamente 30 secondi con una mano e 30 secondi con l'altra. Bene ragazzi, provate a fare questo allenamento tutti i giorni. E buon allenamento!